Cerca il tuo AVO è il nuovo strumento del Centro Studi sulle Migrazioni Aletheia, una costola dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che si occupa della ricerca sui movimenti migratori del passato e di archivistica. Si tratta di una banca dati in cui sarà possibile trovare informazioni sui propri nonni e bisnonni emigrati, catalogati secondo precisi parametri, data di nascita, luoghi di spostamento, eventuali familiari al seguito. È un progetto che tende a far sì che i bellunesi qui a Belluno possano completare, avere un'idea più completa di quelle che sono le loro origini e quindi costruire il loro albero genealogico. Per i discendenti, quello di trovare i propri avi. Si tratta di caricare in questo sito nome, cognome, tutte le informazioni che abbiamo rinvenuto nei registri parrocchiali e creare così un database. Questo grazie ai nostri volontari e grazie soprattutto al consigliere Luisa Carniel, consigliere dell'ABM, che è stata la prima che ha riversato in questo database ben 2550 record. Queste 2500 schede corrispondono a nuclei familiari bellunesi emigrati in Brasile in un periodo che va dal 1875 al 1950. Per le ricerche, la studiosa Luisa Carniel ha consultato 25 archivi parrocchiali del Feltrino, della Valbelluna e della Gordino, oltre ai preziosi schedari digitali dell'archivio nazionale brasiliano. La consultazione dell'elenco è comoda e di facile accesso. Bisogna entrare nel sito centrostudialetheia.it, c'è una sezione cerca il tuo avo, si apre un campo, si inserisce nome e cognome, si clicca e poi escono tutte le informazioni. C'è anche la possibilità di chattare con gli uffici dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per eventuali chiarimenti. Sappiamo che possono esserci delle discrepanze anche in ordine ai cognomi, perché poi una volta che i nostri sono andati via magari i cognomi sono mutati nelle desinenze finali e quindi noi come ufficio possiamo dare delle precisazioni in merito.